Fin dalla nascita ci prendiamo cura dei nostri bambini in modo da garantire loro uno sviluppo sia fisico che psicologico sano. Rivestono un ruolo fondamentale nella crescita di un bambino i giocattoli. Per garantire i requisiti di sicurezza esistono delle leggi comunitarie recepite da norme nazionali che ne definiscono anche l'impianto sanzionatorio. Il rispetto dei requisiti di sicurezza in ambito giocattoli è certificato nei confronti del consumatore dalla presenza del marchio CE e dalle eventuali restrizioni di età e di avvertenze d'uso unitamente ai dati per la tracciabilità. Chi produce e mette sul mercato o commercializza giocattoli privi di queste indicazioni rischia sanzioni amministrative pecuniarie cui si possono aggiungere sanzioni di natura penale laddove il giocattolo risulti effettivamente pericoloso. Un acquisto consapevole deve tenere conto quindi della presenza del marchio CE e dell'eventuale fascia d'età indicata dal produttore che deve risultare compatibile con le caratteristiche apparenti del giocattolo. Leggere con attenzione quanto è scritto sulle confezioni e verificare che i giochi siano a norma è obbligatorio per tutelare la salute dei più piccoli. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio metrologia legale sicurezza prodotti della Camera di Commercio di Firenze in via Orcania 70 oppure per email all'indirizzo attività.ispettive-fi.camcom.it oppure allo 055 66 4264. Grazie.